Vai! E' il pagliata è tornato ragazzi. Allora, c'è sta un signore che va in montagna a fare una passeggiata con la macchina. A un certo punto, quando arriva la zona tutta deserta, gli si ferma la macchina. C'è come faccio adesso? Faccio una telefonata al meccanico. Va a prendere il telefono, non c'è campo. Non c'era nessuno. Apre il cofano della macchina, va a guardare dentro la macchina se sente una voce. E ho spinto erogeno. Se gira, vede nessuno. C'era solo un cavallo bianco con una macchina marrone. Può essere. Gli guarda dentro il cofano con la coda dell'occhio se guarda il cavallo a un certo punto gli fa. E lo spinto erogeno. Oddio comincia a correre. Scappa. Se fa due chilometri di corsa arriva al primo paese. Entra dentro la barra. Tutto affaticato. Oddio! Ho la sede. Ho la cola secca. Ma che è successo? Non ci crederai. Ti dico una cosa. Tu non ci crederai. Ma dimmi, che è successo? Mi sono fermato in montagna a due chilometri da qua. Non c'avevo campo. Apro il cofano. Mi sento fa. Ero spinto erogeno. Mi giro. Non c'è stava niente. C'è stava solo un cavallo bianco con la macchina marrone. Ma guarda quello lì con la macchina marrone che stava... Lascio perdere. Quello non ci capisce anche a 6 motori. No. No.